In studio Giada Giacquinta. Buonasera, bentrovati a una nuova edizione di MTG in apertura alla sanità. L'ospedale di Licata è emergenza per la carenza di pediatri e neonatologi a lanciare l'allarme la federazione Cimo-Fesmed che dice l'aspedia grigento assume per concorso pubblico di specialisti necessari ma li manda in sovrannumero negli altri ospedali continuando a rincorrere propriamente alla mobilità d'urgenza, un'emergenza ignorata dall'assessorato regionale alla salute. Mancano medici, pediatri e neonatologi all'ospedale di Licata. La direzione aziendale dell'aspedia grigento cosa fa? Assume per concorso pubblico gli specialisti necessari ma li manda in sovrannumero negli altri ospedali ricorrendo impropriamente alla mobilità d'urgenza anche con ordini di servizio improvvisi e improvvisati inviati tramite messaggio whatsapp lo stesso giorno della disposizione di servizio. Lo scrivono in una nota congiunta Riccardo Spampinato, presidente regionale della federazione Cimo-Fesmed e Giuseppe Bonsignore, segretario regionale Cimo. L'aspedia grigento ha comunque espletato una procedura concorsuale per assumere sei unità mediche tra pediatri e neonatologi. Due di questi dovevano essere destinati al presidio di Licata, anche Canicattì è in sofferenza. Abbiamo segnalato la cosa all'assessore Razza, chiediamo il suo intervento. La tenda di grigento non è in grado neanche di pianificare la destinazione dei vincitori di concorso. Contattata telefonicamente al momento la direzione generale dell'aspedia grigento non intende replicare alle dichiarazioni del Cimo. Il paventato approdo anche in Sicilia di medici provenienti da paesi esteri rappresenta una grave sconfitta per l'intero sistema sanitario. E questo è il duro commento che arriva da UGL Salute Sicilia e la notizia dell'arrivo di personale medico dall'estero per superire vuoti in organico sempre più evidenti in Sicilia. A parlare i segretari Carmelo Urzi, Raffaele Lanteri. Bisogna eliminare ogni barriera numerica per le facoltà di medicina e delle professioni sanitarie. Scrivono lasciare al libero mercato le opportunità di formazione. Se non iniziamo da subito corriamo il rischio di avere sempre più necessità di rincorrere alla ricerca di medici e sanitari da ogni parte del mondo, dicono i sindacati. E adesso parliamo di coronavirus perché continua in Sicilia il monitoraggio dei casi e dei ricoveri da coronavirus. Sono 536 nuovi casi covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 5.303 tamponi processati. Ieri erano 1.246. Questo il bollettino divulgato nel pomeriggio dal Ministero della Salute. Il tasso di positività è al 10,1%. La Sicilia è al settimo posto per contagi. Gli attuali positivi sono 71.858 con un aumento di 45 casi. I guariti sono 482. E 9 sono le vittime che portano il totale dei decessi a 12.066. Sul fronte ospedaliero ricoverati sono 458. Esattamente come ieri, in terapia intensiva sono 21. 3 in meno rispetto al giorno prima. A livello provinciale abbiamo Palermo 102 casi, Catania 119, Messina 114, Siragusa 39, Trapani 45, Ragusa 34, Caltanissetta 36, Agrigento 35 ed Enna 12. E adesso la politica in vista delle prossime elezioni. I big in Sicilia, Giorgia Meloni e Matteo Salvini oggi a Messina per iniziative elettorali legate al voto per le politiche e per le regionali in Sicilia. Il leader della Lega al ristorante Marina del Nettuno in Viale delle Libertà, mentre la leader di Fratelli d'Italia al mercato Vascone. Nel pomeriggio la Meloni ha tenuto un comizio a Catania, mentre il leader della Lega è stato a Scicli. Domani Salvini sarà ancora in Sicilia tra Gela e l'Agrigentino per concludere con un comizio a Palermo. Inizia il reale countdown in previsione dell'election day del 25 settembre. La Sicilia è stata e sarà tappa di tutti i big. Giornata palermitana e catanese ieri per Carlo Calenda, mentre Giorgia Meloni e Matteo Salvini oggi in Sicilia. Il leader della Lega è in provincia di Ragusa con tappa a Scicli e Comi, isola a Meloni, punta a Messina e tappa poi a Catania per il comizio alle Ciminiere. A fissare appuntamente in Sicilia anche Silvio Berlusconi, il CAV potrebbe essere nei prossimi giorni a Palermo. Attesi anche Giuseppe Conte e Enrico Letta, reduci dalla scissione del campo progressista dopo le primarie in previsione delle elezioni regionali. Date in programma ancora non fissate però per i due leader del Movimento 5 Stelle da una parte e del Partito Democratico dall'altra. Ma non si esclude una loro visita nei prossimi giorni. E mentre Meloni e Salvini condividono alcune delle tappe di oggi, tra cui Messina solo in termini di territorio e non di location, Calenda ieri a Palermo e Catania ha parlato del terzo polo e degli obiettivi da conseguire anche in campo regionale con la candidatura di Gaetano Armao alla presidenza della regione. In Sicilia anche Gianluigi Paragone, leader di Italexit. E riguardo le novità relative alle politica regionale, sentiamo alcuni stracci delle interviste a Gianluigi Paragone, leader di Italexit e Carlo Calenda, leader di Azione. Serve a patto che i partiti, ricordo che Draghi è stato sfiduciato da Berlusconi, Conte e Salvini e quindi è in carica per il disbrigo degli affari correnti, a patto che i partiti si incontrino e diano disponibilità a fare il rigassificatore a Piombino, se no non avremo il gas quest'inverno e si impegnino a non fare altri scostamenti di bilancio. Perché se continuano a dire 100 miliardi per le pensioni, 50 per la flat tax, eccetera, noi finiamo di nuovo sotto attacco, lo spread va alle stelle, le famiglie entrano in difficoltà finanziarie ancora di più di quello che già sono con l'energia. Io sono cinque giorni che dico a tutti i leader politici fermiamoci, vediamoci, incontriamoci, c'è un'emergenza nazionale che sta per far chiudere aziende piccole, grandi e medie, rischia di essere uno tsunami, sediamoci insieme. Noi italiani stiamo pagando il prezzo di una guerra che non è nostra, la guerra in Ucraina è la guerra degli Stati Uniti, l'America, nei confronti della Russia e si sta giocando in Europa, in quell'Europa che in giorni era stata presentata come l'Europa della speranza, l'Europa della pace, l'Europa dei diritti, l'Europa del lavoro e invece proprio l'Europa ha tradito e sta tradendo puntualmente ogni punto della vita quotidiana dei cittadini italiani e non solo italiani. È arrivato il momento di dire basta. Noi questa guerra non la vogliamo. E continuano gli sbarchi sulle coste siciliane, in particolare continuano gli sbarchi senza sosta sull'isola di Lampedusa, oltre 1.500 i migranti all'hotspot. Non si fermano gli sbarchi sull'isola di Lampedusa, già al collasso solo nella giornata di ieri, 11 barconi con 200 migranti a bordo approdati in meno di un'ora, numeri che portano a 46 arrivi sull'isola con oltre 1.500 persone. L'hotspot di Lampedusa è saturo mentre continuano le indagini della Procura di Agrigento sulle gravi inadempienze. I migranti sono stati soccorsi dalle motovedette della Guardia di Finanza e della Guardia Costiera. A bordo uomini, donne e bambini. Alcuni sono stati ricoverati per malesseri generali. La ONG Oseans Viking è impegnata nel Mediterraneo in cinque salvataggi in meno di 24 ore. Tanti bambini, gli adolescenti terrorizzati che viaggiano con la speranza di trovare una vita migliore, intercettati e soccorsi dalla Geo Barents di Medici Senza Frontiere che ha effettuato due salvataggi. Ed è scomparso dalla Teca dove era contenuto all'ingresso dello stadio Angelo Massimino di Catania il defibrillatore dedicato alla giornalista storica speaker del calcio Catania Stefania Sberna. L'importante strumento salva vita era stato donato alla città dal marito salvo la spine e dalle figlie attraverso una raccolta fondi per ricordare Stefania deceduta prematuramente e amata dalla città per la sua passione per i rossoazzurri. Vorrei rivolgere un accorato appello affinché il defibrillatore venga restituito ai catanesi, ha scritto in un posto la consigliera comunale catanese Sara Pettinato che aveva dato anche notizia del furto. Ed era proprio il 29 agosto del 1953 quando nell'abitazione dei coniugi annuso a Siracusa dal viso della Madonna di un quadretto di gesso smaltato sgorgarono delle lacrime. Un evento miracoloso che si ripete fino al primo settembre. Siamo andati nell'abitazione di via degli orti a Siracusa e poi al santuario dove abbiamo incontrato il rettore padre Aurelio Russo sul posto Veronica Puglisi. La città di Siracusa celebra il 69esimo anniversario della lacrimazione della Madonna. In via degli orti numero 11 vivevano i coniugi Iannuso. La mattina del 29 agosto la signora Antonina ha letto per una gravidanza difficile e si accorge che dal volto della Madonna scendevano delle lacrime. La notizia si divulgò rapidamente. L'abitazione di via degli orti divenne meta di pellegrinaggio di tanti fedeli appunto tale che la Madonna fu espossa sullo stipide della porta. Una storia che ha inizio con il matrimonio dei due coniugi il 21 marzo del 1953. Poi il dono di nozze, il quadretto di gesso raffigurante il cuore immacolato di Maria e l'evento miracoloso che si è protratto fino al primo settembre. Queste lacrime sono state raccolte, sono state analizzate e il risponso è stato lacrime umane. Questo è un miracolo dove si può dire che più che fede si deve parlare di scienza perché è la scienza che ha come vivi sezionato tutto l'evento. Il figlio che la signora portava in grembo nasce naturalmente il 25 dicembre. Il figlio ateo, il medico che non credeva, che è anche figlio di Dio, muore la notte di Pasqua in grazia di Dio. La notte di Pasqua quando Gesù muore e risorge. Nella stanza dove avvenne il miracolo adesso sorge una cappella a metà di tanti fedeli e di tanti pellegrini che vengono proprio qui a pregare. Davanti il quadro della Madonna è una riproduzione del quadretto ingesso del cuore immacolato di Maria. Il quadretto miracoloso originario è custodito all'interno del santuario sopra l'altare maggiore. È stata installata una pedana per permettere ai fedeli di avvicinarsi e rivolgere una preghiera alla Madonna. Abbiamo ideato questa pedana che permette al fedele di poter accedere e guardare la Madonna faccia a faccia, a una distanza di pochi metri. Ho incrociato tante persone che anche testimoni oculari che vedendo il volto della Madonna mi hanno detto ho riconosciuto quel volto, ho rivisto quelle lacrime. Intanto questa mattina tra gli eventi celebrativi è stata scoperta in piazza Euripide la nuova stella commemorativa del miracolo mariano e una targa in marmo. Nella lapide è stato rinnovato il ringraziamento alla Madonna e l'affidamento di Siracusa alla sua protezione materna. È stata trafugata ieri pomeriggio dalla chiesa della Badia di Sant'Agata Catania, l'icona della Santa donata anni fa da un esperto iconografo e collocata su un tronetto argentino vicino all'altare della Madonna. Sull'episodio interviene il parroco padre Massimiliano che dice mi auguro che gli autori di questo gesto si ravvedano un'opera che aveva un grande valore affettivo per i fedeli. Hanno approfittato di un momento di confusione in chiesa ieri pomeriggio per rubare l'icona di Sant'Agata collocata su un tronetto argentino vicino all'altare della Madonna, una mancanza di cui si sono accorti solo poco dopo, come ha raccontato il parroco della chiesa Badia di Sant'Agata di Catania, Massimiliano Parisi, che ha spiegato come questa icona ha più che un valore economico, abbia un valore effettivo, perché dopo essere stata donata una decina di anni fa da un esperto iconografo, tanti fedeli hanno pregato manifestando con candele e fiori in questi anni la propria devozione alla patrona di Catania. Il gesto che più ci dispiace è esattamente questo, aver deturpato in un certo senso quella che è la fede di tante persone, che qui in questo angolo della chiesa si è sempre espressa in modo caloroso. Padre Massimiliano, che ha denunciato l'episodio alle forze dell'ordine, si augura che gli noti autori di questo gesto si ravvedano o che almeno usino con rispetto questo segno impropriamente ottenuto e che non se ne disfino per fini puramente e discutibilmente economici. Tante cose nella vita si possono ottenere, però si ottengono con più facilità attraverso la gentilezza e non con la forza. Noi ci auguriamo che l'autore o gli autori di questo gesto possano anche silentemente riconsegnare l'icona. Poi, considerato che la chiesa ha un valore pedagogico, padre Massimiliano ha già provveduto, dice, a commissionare allo stesso artista una copia dell'immagine per testimoniare che il bene assembrerà meglio sul male. Abbiamo già commissionato una copia di questa icona che quanto prima verrà ricollocata in questo luogo, proprio per dimostrare che il bene ha sempre la meglio sul male. E' 31 anni fa l'omicidio di Libero Grassi in via Vittorio Alfieri a Palermo. Stamattina la commemorazione dell'imprenditore che con coraggio si è opposto al pizzo. Il 29 agosto del 1991, alle 7 e mezzo di mattina, venne ucciso dalla mafia Palermo con quattro colpi di pistola mentre si recava a piedi al lavoro Libero Grassi, imprenditore coraggioso che si oppose al pagamento del pizzo a Cosa Nostra. Cerimonia questa mattina a Palermo presenti la figlia Alice Grassi e il fratello Davide che hanno spruzzato della vernice rossa con una bomboletta spray proprio nel luogo dell'omicidio. Rosso, il colore del sangue che ha versato Libero Grassi in via Vittorio Alfieri. Anche quest'anno è stato affisso il cartello scritto a mano così come vuole la famiglia. Il 29 agosto 1991 recita qui è stato assassinato Libero Grassi, imprenditore, uomo coraggioso, ucciso dalla mafia, dall'omertà dell'associazione degli industriali, dall'indifferenza dei partiti, dall'assenza dello Stato. Oggi ricordiamo l'omicidio di un uomo con un pensiero rivoluzionario per quell'epoca, un uomo che in assoluta solitudine si è contrapposto anche in maniera sfidante alla criminalità organizzata. Queste le parole della prefetta di Palermo, Maria Grazia Nicolò, e commissaria straordinaria del Governo per il coordinamento dell'iniziativa anti-racket e anti-usura, a margine della commemorazione. C'è stato un incremento anche in Sicilia, continua la prefetta nel 2021, ancora è presto per stabilire cosa accadrà quest'anno, ma dobbiamo tenere conto che alla denuncia non corrisponde necessariamente un'istanza di presentazione al fondo di solidarietà. L'omicidio di Libero Grassi ha segnato anche una svolta importante a livello di associazionismo, ad esempio a Palermo, ha detto ancora la prefetta, c'è addio Pizzo, vere sentinelle del territorio perché l'imprenditore vive una sensazione di solitudine e di soggezione psicologica, quindi i comitati e le associazioni svolgono un ruolo davvero importante. E l'omicidio Grassi ha determinato questo, dopo l'omicidio sono state anche emanate delle norme e ha favorito l'attività solidaristica, ha concluso. Maria Grazia Nicolò I calciatori della San Cataldese e del Paternò ieri per la Coppa Italia sono scesi in campo innossando la maglia con la scritta contro il femminicidio. La squadra a Nissen è rimasta attognita come tanti per la violenza che ha visto. Il protagonista è il calciatore della San Cataldese, accusato di aver ucciso l'ex compagna di 56 anni dopo aver lasciato l'albergo dove era il ritiro sabato scorso. A urlare contro la violenza sulle donne, anche l'associazione Crateri Caltanissetta, secondo la presidente Denise Franzone, lo sport è sempre il campo più adeguato per promuovere la parità e il rispetto tra le persone, a prescindere dalle identità di genere. Un luogo dunque di eccellenza per la prevenzione. E adesso parliamo di turismo. Arrivi e presenze complessivamente quasi raddoppiati in Sicilia rispetto allo scorso anno aumentano anche in modo significativo i turisti stranieri che scelgono per le loro vacanze la nostra isola. Il turismo siciliano si avvicina ai numeri del 2019. La media di permanenza giornaliera è di tre giorni. Secondo i dati del Dipartimento della Regione Siciliana, che esamina sia il settore alberghiero che extra-alberghiero, da gennaio alla fine di luglio 2022 gli arrivi complessivamente sono cresciuti dell'89,3% rispetto all'anno scorso, le presenze del 93,6%. In valore assoluto, nei primi sette mesi del 2022 sono stati registrati oltre 2.300.000 arrivi e oltre 7.300.000 presenze contro il 1.200.000 e gli oltre 3.700.000 presenze dello stesso periodo, però, del 2021. I numeri del 2022 sono molto vicini a quelli del 2019, quando ci furono 2.759.398 arrivi, mentre in termini di presenze si registrarono 7.839.476 turisti. Hanno da prendere quello del 2019 come termine di paragone, perché non c'erano ovviamente le restrizioni dettate dalla pandemia. Il flusso del turismo straniero quest'anno è cresciuto del 301% rispetto all'anno precedente, la presenza dei turisti invece del 285%. In crescita anche i turisti italiani, sia per gli arrivi, più 38%, sia per le presenze, più 36%. La permanenza dei turisti nell'isola, inoltre, nei primi sette mesi del 2022 si attesta in media a 3,2 giorni. L'anno scorso erano stati 3,1, nel 2019 2,8. La crescita della durata dei soggiorni è uno degli obiettivi della regione. E ci fermiamo adesso per la pubblicità, tra poco. Bentrovati in studio, seconda parte del nostro telegiornale. La nave della Marina Militare, Amerigo Vespucci, ha omaggiato la costa eblea transitando a 600 metri dalla costa di Marina di Ragusa. In tanti hanno assistito all'evento, numerose le barche, che hanno accompagnato il veliero mentre si dirigeva verso est. Ha omaggiato la costa eblea, ha incantato e tanti turisti e villeggianti la nave della Marina Militare Amerigo Vespucci, che ieri pomeriggio è transitata a circa 600 metri dalla costa di Marina di Ragusa. Una delle navi più famose al mondo è prima uscita dal porto di Malta ed è giunta nella frazione balneare nel primo pomeriggio, per poi continuare la rotta verso est, verso Capopassero, ad una velocità di circa otto nodi. Aveva dato l'annuncio su Facebook il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, che aveva avuto interlocuzione con il comandante Massimiliano Siragusa. Dalla spiaggia, dal lungomare, in tanti hanno potuto assistere all'evento. In mare, tantissime barche che hanno accolto il veliero. A bordo, gli allievi del corso ufficiale dell'Accademia Navale di Livorno della provincia di Ragusa, Gabriele Pugliarello di Vittoria, Anisia Volese di Modica, Federica Minardi di Chiaramonte Gurfi, Matteo Causarano, Giuseppe Lentini e Alessandro Liardo di Ragusa. L'ufficiale Federico Messini ha pubblicato sul suo profilo Instagram le immagini della nave accompagnata dalle tante barche che hanno attraversato la costa eblea. Tante le immagini, foto e video pubblicate sui social che hanno immortalato il passaggio della nave della Marina Militare a largo delle frazioni di Scicli fino a Marina di Modica. E la 23enne Giulia Vitaliti di San Giovanni La Punta Miss Italia 2022. Sguardo magnetico, sorriso, smagliante, Giulia Vitaliti Miss Sicilia 2022. La 23enne di San Giovanni La Punta è stata eletta ieri sera in Piazza Umberto I ad Avola nella finale condotta da Giada Rumè, Miss Italia in carica e Antonello Consiglio. La neo-miss aveva conquistato già all'arena canapè di Gioiosa Marea il titolo di Miss Miluna Sicilia che adesso, secondo il regolamento, va alla palermitana Chiara Benigno. Giulia, alta 1,78 m, gioca a pallavolo con l'alus di Masca Lucia e aveva intrapreso gli studi per diventare criminologa, ma adesso studia per entrare in accademia di recitazione perché il suo sogno è diventare attrice. Giulia, secondo il regolamento, andrà alle pre-finali. Insieme a lei altre 10 siciliane. Ho tre anni, vengo da San Giovanni La Punta in provincia di Catania e sono Miss Sicilia 2022. Che dire della fascia, sono stra-contenta di averla vinta perché io sono molto legata alla Sicilia, sono molto legata alla mia terra, quindi poter rappresentare la mia regione nelle fasi di pre-finali di Miss Italia per me è molto importante. Dedica questa vittoria alla nonna con cui ha avuto un legame particolare e ha portato con sé un anello, suo portafortuna. Dedico questa mia vittoria a mia nonna che è venuta a mancare un paio di mesi fa e io ho ottenuto il mio anello perché è un regalo del battesimo di mia nonna. E ieri a Campobello di Mazzara la quarta edizione del Red Head Sicily, il raduno dei rossi naturali siciliani. Il più giovane è Vito, bimbo di sei mesi, eletto mascot dell'evento. Fino al 62enne Giovanni Palumbo, l'orgoglio dei rossi non conosce età. Si è svolta infatti nella frazione di Tre Fontane a Campobello di Mazzara in Sicilia, ieri la quarta edizione di Red Head Sicily, che ha visto la partecipazione di circa 50 persone con i capelli rossi naturali provenienti da ogni parte della Sicilia. Le prime due edizioni si erano svolte a Favara, la terza a Marsala, quest'anno per la prima volta in spiaggia a Tre Fontane, bandiera verde assegnata dall'Associazione Nazionale Pediatrico al sostegno della Proloco. I rossi siamo sempre stati visti come malpelo, soprattutto nell'età dell'adolescenza, dicono gli organizzatori. Questo raduno è l'occasione per affermare l'orgoglio di essere felicemente rossi e soprattutto di non essere soli, hanno commentato gli organizzatori soddisfatti per il successo dell'iniziativa, che ha anche un valore sociale. Per la prima volta delle quattro edizioni, quest'anno il Red Head Sicily si è gemellato con il Red Head Days, l'omonimo festival che si svolge nei Paesi Bassi. Le due comunità a distanza di 2000 km si sono visti con un collegamento video tra la spiaggia di Tre Fontane e il Rail Park di Tegelborg. Per l'intera giornata i rossi naturali siciliani hanno partecipato a giochi con l'animazione e la partecipazione straordinaria dell'attore Fabrizio Bracco Neri. Adesso una bella notizia, Fiocco Azzurro in casa mediterraneo è nato Leo, il figlio di Marco Mazzaglia, conduttore e ideatore del programma catanese Doc e figlio di Catalda Crisci. Leo è nato alle 16.37 all'ospedale Garibaldinesima di Catania, pesa 3 kg e 400 grammi. La mamma e il bimbo stando bene alla famiglia Mazzaglia, gli auguri da parte di Video Mediterraneo. Ed è tutto per questa edizione, grazie per averci scelto, buona serata. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.